benvenuti ad una nuova pratica di danza classica no under 40 oggi in realtà andremo a vedere e a imparare a fare quello che è lo chignon elegante di danza bene io sono Alina Quintana ex ballerina laureata dell'academia del Val de Cuba oggi dance coach e creatrice della metodologia danza classica no under 40 da questo momento inizio a salutare a tutte le numerosissime allievi che si stanno collegando per questo tutorial per questa pratica e saluto anche te che sei nuova e stai passando per questo canale youtube ti invito a iscriverti e soprattutto molto importante attivare la campanella per non perdere i futuri video che condividerò bene lo chignon l'avigliamento di danza classica il filo di trucco sono dei codici disciplinari ed etici della danza classica fondamentale per lavorare ancora più a profondo sulla bellezza e l'eleganza della donna e in questo caso della donna sopra i 40 anni ma anche della ballerina quando ero piccola in accademia di danza classica era obbligatorio farsi lo chignon durante tutto il giorno dovevi avere uno chignon perfetto ma soprattutto perché questo chignon in palcoscenico nel momento di danzare doveva resistere tutta la serata oggi impareremo a fare uno chignon che vada bene per te per la tua danza classica ma anche per la vita normale e dopo il successo del tutorial di trucco voglio condividere con te i miei dieci tip per un chignon elegante di ma un segreto finale anche quindi non restare solo guardarmi prepara tutto quello che ci servirà per questo tutorial e andiamo subito a farlo ora iniziamo da farvi vedere cosa utilizzeremo la prima cosa una spazzola e un pettine ci servirà perché andremo usare la parte dei denti più fini poi ci servirà acqua da spruzzare qui ho messo dell'acqua normale del rubinetto in questa bottiglietta andremo usare il gel e la lacca alla fine per fissare andremo a usare le forcine come vedete sono forcine ben aperte e poi magari forse se abbiamo dei capelli piccoli per fissare il nostro chignon andremo utilizzare anche queste mulettine o forcine dipende di come li chiami poi andremo utilizzare una rettina che potete comparare comprarla anche se ve lo dirò alla fine su amazon o nei negozi di danza e devi per forza utilizzare una dello stesso colore del tuo dei tuoi capelli poi andremo utilizzare un elastico cerca che non sia troppo troppo largo che sia stretto così non fai tanti giri andremo a utilizzare alla fine un nastro perché perché quando ero in accademia ogni ogni anno aveva un colore diverso per identificare l'anno in cui eri in accademia quindi mi è sembrato proprio carino farti vedere come lo utilizziamo poi oggi io non avevo proprio il nastro che utilizziamo nell'accademia quindi questa è una cintura di un vestito che andrò a improvvistare un nastro per i capelli quindi fai anche tu se non hai ma l'importante è seguire il tutorial insieme a me se ti serve un specchio perché ti servirà per guardarti da dietro è importantissimo perché non dobbiamo pensare di essere perfette nella parte davanti e poi ci dimentichiamo dietro dietro è tanto importante come davanti perché noi ci guardiamo davanti ma il pubblico e le persone ti guarderanno anche dietro quindi devi essere un chignon bello sia davanti che dietro ultimissima cosa che volevo dirti ci sono tre tipologie di chignon c'è lo chignon molto basso qui proprio dove inizia il collo c'è lo chignon a metà della testa e c'è lo chignon un po' più alto poi puoi scegliere di fare lo chignon pettinato tutto all'indietro lo chignon con una riga in mezzo e pettinato anche qui un po' i lati o puoi scegliere la riga di lato ma la cosa più importante non è come tu ti vedrai esteticamente dietro riga al centro o riga di lato la cosa più importante di tutte queste che ti ho detto è l'altezza dello chignon perché perché in danza classica cerchiamo sempre che la abbia una linea elegante una linea lunga soprattutto nella parte del collo quindi oggi impareremo a fare uno chignon un po' più alto della testa della metà della testa quindi sarebbe qua questa è la cosa più importante non è spezzare la linea non è spezzare il collo andiamo alla pratica quindi partiamo dall'acqua la prima cosa spruzziamo l'acqua non avere timore perché è acqua normalissima la spruccerai davanti quello che ti serve e la spruccerai anche dietro perfetto ora possiamo passare la spazzola e pettinarli per disciplinarli un po' ricordate che andremo a fare lo chignon all'indietro io non sono molto convinta con lo chignon all'indietro ognuna ha un profilo diviso diverso però ho voluto partire dallo chignon più semplice che quello pettinato all'indietro andiamo a prendere il nostro pettine e per farlo già voglio partire con il secondo segreto che è quello di passare del gel attenzione sopra il pettine che non sia troppo fluido così non cade ed eccolo qua andremo a pettinare i capelli con il gel fai piano cercando che non lasci dei bucchi che tutti i capelli siano ben ordinati la mia modo di fare la coda è iniziare da una coda a metà vedete per esempio ben raccolta a metà benissimo e da lì in poi inizio a lavorare anche dietro a raccogliere anche dietro pezzo per pezzo non tutto insieme pezzo per pezzo poi vado qua e poi vado qua quello che rimane lo farò con le proprie mani per aiutarmi con il gel già abbiamo dato un po di precisione alla coda fammi sapere se lo facevi anche tu così ok ora io lo sto facendo bello tirato perché voglio farlo proprio come si fa in accademia ma se tu hai bisogno di uno cignone un po più rilassato puoi sempre far rilassare un po le sciocche iniziali passiamo all'elastico vai piano prendo l'elastico lo passo una volta dipende di quanto sia l'elastico ampio e lo passo una seconda volta ricordate tutti i passaggi che sto facendo siamo partiti dallo spruzzare acqua abbiamo pettinato prima con la spazzola poi il pettine con il gel insieme abbiamo raccolto una mezza coda e poi il finale attenzione il finale vedi come la coda è adesso deve essere un po più alta della metà dei capelli e dietro deve essere tutto ben liscio come davanti che te ne sembra ora se tu hai un taglio di capelli dove usi molto la frangetta fai esattamente come ti ho mostrato la unica cosa che devi fare tirandola l'indietro è il miglior modo perché tu sia sempre ordinata l'unica cosa che puoi fare per migliorare questa frangetta l'indietro e che non vada via e fissarla con delle molettine piccoline io non ho bisogno però posso immaginare che ci sia qualcuna donna che mi sta guardando con la frangetta e può avere bisogno bene io ho i capelli lunghi ma per chi ha i capelli corti posso consigliare di dividerlo a metà incrociarle fino a dove arrivi immagino che tu hai i capelli così e poi lo attorciglierai nella stessa direzione ok così così perfetto ora io che ho i capelli lunghi vado a pettinarli un pochino la coda non in fondo perché non voglio perdere i miei la mia forma no e vado a torcigliare solo la parte finale solo la parte finale e non troppo stretta e come per chi ha i capelli lu e corti andremo a attorcigliarlo intorno alla coda alla nostra coda in una stessa direzione in uno stesso senso andiamo a farlo quindi blocca la tua coda e inizia anche a spingere verso il basso per darle la forma se tu facevi tutto in un altro ordine ma ti trovi bene va benissimo ora attenzione ecco qua la mia cignone cosa succede io non vado a fissare subito con le molettine io vado a fissare prima con la retina mettiamo la retina non vi preoccupate se ci sono vedete i capelli andrà tutto bene se la retina è lunga come questa potremo fare un altro giretto ancora meglio e la retina uno un nodo cercate che venga dentro ok ora il nostro cignone un po così però noi le daremo la forma se tu hai pochi capelli una coda piccolina aprelo in questo caso io che ho tanti capelli dovrei un pochino semi chiuderla non troppo aperto perché se no sembrerebbe una pagnotta un pane così bene è arrivato il momento guardate come è venuto è arrivato il momento di fissarlo con le forcine e andiamo utilizzare proprio queste che sono le forcine adatte immagina come se tu stessi facendo l'uncinetto penso che si dica così in italiano e farai contrario ai capelli e poi dentro e spingi dentro non andrai attaccare uno vicino all'altro ma un pochino più lontano ricordate contrario verso il senso contrario per poi entrare ti divertirai moltissimo a farlo dopo che impari contrario e poi dentro questo perché se salti se fai giri tutto quello che vuoi non butterai le forcine non si perderanno rimarranno molto ben attaccati uguale dietro stiamo andando già dall'altra parte contrario e poi dentro e qui andremo a finire contrario e poi dentro stiamo arrivando al risultato guardate bene ora io andrei a fissare questi piccoli capelli nuovi che stanno nascendo che fanno un po il senso di indisciplina non mi piacciono vado a spruzzare un po di lacca non la spruzzo mai sullo chignon la spruzzo proprio dove ci sono i capelli più o meno a 10 15 centimetri è qua che arriva il momento della della molettina perché voglio per esempio andare a fissare se ci sono delle imperfezioni fisso qui che vedo una imperfezione molto bene e l'altra nella stessa direzione così che sono tutti due uguale sembra che io non sto volendo coprire imperfezione ma sembra proprio che sia un voluto bene forse dietro abbiamo bisogno ma se non abbiamo bisogno non mettere forcina ma se tu hai capelli corti assolutamente fisali la idea di sembrare elegantissime di essere orgogliosa di camminare anche per strada con uno chignon molto bello molto elegante io direi che possiamo passare all'ultimo dei tips che è quello della del nastro ti ricordo come ti ho detto all'inizio che ogni anno in accademia utilizza un colore diverso per differenziare il livello no? e il verde era l'anno penso quarto elementare del livello elementare non mi ricordo adesso benissimo e quindi siccome è troppo lungo e dovrebbe essere in realtà la metà quindi questo io andrò a doppiarlo così a piegarlo e lo attorciglio senza stringerlo lo attorciglio lo passo dietro così vedete questa parte non voglio che si veda quindi faccio il nodo posso decidere di tenerlo al centro e che cadano le due punte o posso deciderlo di tenerlo un pochino più di lato e questa particina la metto ok nascosta vado a nasconderla e poi la fisserò con una forcina sempre di queste che mi piacciono tantissimo andrò a fissarla da dentro che non si veda ora io l'ho messa di lato perché così potete vederlo meglio perché se lo lascio dietro è nascosto e non vedete proprio il tocco ebbene questo è lo chignon elegante di ballerina con i miei 10 tips con i miei 10 passaggi però c'è un segreto che ho voluto lasciare per la fine per completare questo chignon elegante ed è gli orecchini questo è molto molto importante sembra non così importante adesso che lo dico però sì perché perché donne non ballerini a volte vengono con orecchini molto grande pesanti compendenti troppo colorati e nella danza classica non possiamo avere degli elementi sul corpo che tolgano la tensione dal movimento della ballerina la tensione dal collo che ha così tanta importanza nella ballerina questa parte qua del collo deve essere libera del movimento ecco perché chiediamo anche lo chignon che sia bello alto in modo che la ballerina abbia proprio la focalizzazione sulla parte alta che è la parte che interpreta di più quindi non orecchini pesanti orecchini colorati orecchini troppo estravaganti cercate degli orecchini a forma di perle tonde o dei brillantini in questo caso questi sono come dei brillantini e questo è il tocco finale per completare lo chignon elegante di ballerina quindi l'idea è che gli orecchini siano proprio all'interno dell'orecchio all'interno non esterno non devono pendere ecco qua e questo è lo chignon il mio chignon elegante di ballerina che oggi ho voluto condividerti cara No Under 40 spero che ti sia stato utile questo video tutorial con tutti i miei segreti metterlo in pratica perché solo la pratica ci fa diventare perfette e quindi lasciami anche un commento se lo facevi così se lo facevi in un altro modo se hai bisogno di sapere che cosa ho utilizzato che marche ho utilizzo quale sono gli strumenti che ti servono tutto questo te lo posso anche dare come indicazione sia sotto questo video che se vorrai iscrivermi ricordate che però siamo un'accademia di danza classica tutta online per donne sopra i 40 anni abbiamo due corsi uno che è un corso di 10 lezioni che è sempre tuo sempre per sempre da fare a casa l'altro è un'accademia online che non finisce mai sai che vuol dire mai vuol dire che sarà sempre tuo ma che ogni mese riceverai dei contenuti di danza classica per te su misura per te sempre nuovi sempre aggiornati molti saranno proposti da me molti potrai proporli anche tu per far sì che il tuo percorso sia ancora più su misura più bello quindi se vorrai entrare in questa nuova fase di trasformazione di emozione e di vivere finalmente il tuo sogno della danza classica dopo i 40 anni e con la mia guida beh io ti aspetto dall'altra parte un bacio dalla tua dance coach Alina Quintana Alина Quintana Alina Quintana Alina Quintana Alina Quintana Alina Quintana